Non ci deve mai mancare la gioia e l'attenzione per l'altro. Sono le parole di Monsignor Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria, pronunciate ieri durante la messa dedicata ai patroni di Villa Castelli. Il Sacro Cuore di Gesù e la Vergine Santissima della Fontana. La celebrazione è stata trasmessa in diretta su Teledeon. Interroghiamoci un pochino sulle nostre relazioni e facciamolo in questo tempo particolare, questo tempo che viviamo di pandemia, siamo qui in questa piazza, per fortuna che c'è questa piazza, ma siamo comunque distanziati, siamo con le mascherine. Viviamo in una situazione di disagio, lo viviamo, lo sappiamo, ma è necessario farlo. Ma ciò che non deve mancare in questo tempo, che cos'è amici cari? È la gioia e l'attenzione per l'altro. Molto spesso siamo centrati su noi stessi, sui nostri bisogni, sui nostri desideri. A volte anche sui nostri diritti. Ma siamo, come dire, orientati verso noi. Maria ci dice che dobbiamo essere estroversi, cioè orientati verso gli altri. Ci dice che dobbiamo avere un'attenzione per l'altro. L'altro non mi è indifferente. L'altro non deve essere lontano da me, dai miei pensieri, dalle mie possibilità, la mia capacità di intervenire nei suoi bisogni. Bisogna imparare, amici cari, per essere cristiani in questo modo, come ci dice il Vangelo. Bisogna imparare a interpretare i bisogni dell'altro. Bisogna imparare a vedere il bisogno dell'altro. Quando l'altro ha bisogno, devo intervenire prima che me lo chieda, se ce l'ho a cuore, se l'ho preso a carico. Devo saper vedere ciò che gli manca, per andargli incontro. Vedete, amici, questo aspetto è essenziale. Questo aspetto è essenziale. Quello della guardare l'altro con cura. Tu mi sei caro, dice Dio nel profeta Geremia, parlando di Israele, parlando dell'umanità. Tu mi sei caro, tu mi sei a cuore. E così dobbiamo pensare noi dell'altro. Tu mi sei a cuore. E non solamente quelli che ci piacciono, ma tutti. Tutti ci devono essere a cuore.